Ciao, sono Michael, mi chiamo Carla, mi chiamo Teresa, sono di Verona, ciao a tutti, sono Bianca, ciao, sono Roman, Anna, veniamo da Cognigliano, Veneto, ciao, sono Gianni, mi sono trovato veramente bene, staff di animazione spettacolare, mi trovo qui da 15 giorni, noi siamo un gruppo, siamo stati benissimo, la spiaggia è bellissima, il mare è ancora di più, il deserto anche, anche la gente, il servizio, i ragazzi, ringrazio a tutti per l'animazione soprattutto. Abbiamo mangiato tanta, abbiamo riposato, abbiamo preso il sole, siamo stati a Luxor, una bella città, è molto interessante. Settimana bellissima, sono diventato maestro di acquaggima assieme al mio collega Andrea. Ciao, ciao, ciao e spero proprio di tornare, torneremo con altri clienti, grazie a tutti. Saluto, ciao, ciao e grazie. Saluto, ciao, ciao.